Celestini al Cinema Teatro Nuovo, un elemento di novità per il teatro a Varese? Non un elemento di novità assoluta, ma diciamo così, il riallacciarsi a un'antica tradizione, quella del teatro di ricerca, teatro di innovazione, che in realtà da un po' di anni a Varese non trovava spazio. La collaborazione con la fondazione 1860 Galarate Città, la fondazione Carico e il comune di Varese, ha fatto sì che almeno in questa occasione siamo riusciti a portare Ascanio Celestini, Marco Paolini e Pamela Villoresi in questi tre spettacoli promossi in questa stagione teatrale. Speriamo però ovviamente che anche per il futuro sia possibile riportare il teatro di ricerca a Varese, ne abbiamo un grandissimo bisogno. che gianacoscia, però non morirono per una volta. Un'altra volta mio padre rischia di morire perché stava in cima a un albero e pisciò in testa a un tedesco, il tedesco gli sparava addosso e non lo prese e non morì neanche quella volta. Poi soprattutto mio padre raccontava che rischia di morire una volta per colpa della cipolla, gli spararono addosso per colpa della cipolla. E quel giorno era il 4 giugno 1944, il giorno della liberazione di Roma, o come dicono a Roma e come diceva mio padre, è il giorno di entrata da Amrima. Il 4 giugno del 1944 mio padre, che era un ragazzino, aveva 8 anni, quasi 9, era appena uscito da un cinema, il Cinema Iris, che è un cinema che sta sulla Pianometana a Roma, in fondo da Pianometana a Portapia. Ora si sta ancora a suo cinema, si chiama Cinema Gioiello, perché la ristrutturazione è chiusa, può essere che si fa in un supermercato, ancora bene, io stavo a parte del cinema. Stavano tutti i tempi sotto una pensilina grande per questa scuola Giovanni Galliero, che in lontananza vedevano certi soldati, che giudicati da come erano vestiti, qualcuno diceva, vedrai che quelli sono americani, qualcuno diceva no, guarda che secondo me quelli sono sempre tedeschi. Qualcun altro scettico diceva, saranno tedeschi travestiti americani. Non ho trovato nessuno. Però quando sta che nessuno si avvicinava a vedere chi erano questi soldati di Presidio, perché a metà tra via tra i soldati e la gente sotto a questa pezzerina della scuola Giovanni Galliero, c'era un cararmato tigre che sicuramente era tedesco. Se io andavo incontro io avrebbe sparato così. E allora, un fiore. Ho visto che, ti capito che, non so, pari manco a raggiarsi i ragazzi dei scatti che già andavano in guerra. Dice che se un soldato, giovane e giovane, si è fermato sotto l'albero, non si sta a mio padre. Si è tolto nel metodo, l'ha appoggiato per terra con il tumore rivolto verso l'altro. Quello mio padre era un ragazzino, lontani, pure impunito, funzione. Quando vi testo in metro, tirò fuori, tirò giù la patta del vantoletto e tirò fuori più se lo spiccio dentro. Una cosa eroica, anzi, atletica, popolimpionica, uscì a far centro, entro un buco, delle calzarole così piccole, con una pisciata che di suono non è mai stata una cosa, diciamo, esemplare, spizia da precisa, insomma. Infatti il padre era tutto orgoglioso, contento, si aspettava che pure il tedesco si sarebbe alzato un piede e gli aveva fatto applausi. Che sarebbe arrivato che aveva mandato a Germania, se ne aveva marzo che andava. Che sarebbe arrivato l'Italia, l'impresore, fatta a cagli sul petto, la medaglia d'oro, va a pisciare il luogo. Invece il tedesco, come se dice Roma, pio da cielo, insomma non apprezzò le note tecnico-scientifiche di mio padre. Dice a mio padre che tirò fuori la rivolta e la esplorò addosso. Però quando mio padre mi dà visto la scapposta, non ci va l'albero, scappò da un ramo a quell'altro ramo, a quell'altro ramo da un ramo da un ramo da un ramo, mentre scappò, sputava in testa il tedesco, il pesco e il mio padre gli diceva che i morti, che pure se il tedesco era il tedesco, il mio padre che lo avrà capito che non era proprio un ringraziamento. L'amore ha caldo la notte, nel tempo di quale la notte era pieno del mondo. Senza tutta la cacciata, adesso ormai ci sentono solo i figli che piantano. Durante quella notte lì, mio padre e mio nonno se ne stavano chiusi nel cinema Iris. Mio nonno, mia nonna aveva parlato con la sora Irma, e la sora Irma gli aveva detto a mio nonno che ci aveva un affare importante, i miei mani. La sora Irma gli aveva detto che un parente suo, la sora Irma, uno che stava affascando un po' fuori l'ombre, con i stegni romani, dice che aveva rubato maiali tedeschi, e dice che comunque questo maiale si prendeva per migliaia di lire, che era un prezzo interessante, se non ottimo, straordinario speciale, diciamo, se il tempo di guerra. Però allora la sora Irma gli dice, io saprei da parte qualcosa come 300 lire, se voi sul giugno, risominavano, potete mettere il restante dei 700, questo maiale se lo compravano più alle sue, perché a questo prezzo non ci cambia più. E lui dice, se io sono 300 lire ce l'ho, ce ne avrei 200, 200 e 300 fanno 500, compravo che mezzo magliare, che mezzo non vale più di abbastanza, 100 dice, lo farei Irma. Peccato che il suo parente mio di Frascari e il magliare solo vede vivo, e se vuoi comprare mezzo magliare vivo. Perché se gli hanno trattato, ci sono i nostri morti, ti guardò, ti accorgi un po', il giro, li spostò, poi dice che l'americano, se c'era verso altri americani, gli disse, sono tutti morti, in americano lo disse, io non saprei dire, sono tutti morti, gli sono tutti morti, tranquilli, e si misero a mangiare questi americani, il bambiere fermo, fermo, che si ammazza, ma come morono in maniera differente da noi? Poi sì, io non ero mai morto prima, le morti le ho visti pure pochi, invece, oh, appena mi avete a far morto, guarda, e poi se lo aveva ripreso il paragone, stavo in mezzo ai morti quei liberi, invece vanno più morto io dei loro, un primatore in mezzo a tante compagge, e ci sono, mi sono chiesti, per parlare, che si era l'acqua di frutta, vengono a mangiare, e poi si misero a dormire, pure il bambiere che era una ribelli, quasi quasi si era addormentato, per la paura che gli era preso, quando sentì una sparatoria, urli, strigli, tutte le lingue, sparano con gli occhi e vide che un gruppo di soldati tedeschi, erano soldati addosso gli americani, li avevano ammazzati tutti, no, che misena, il bambiere pensava io, non so se stavo facendo gli americani, perché non so manco sui stocchi di tedeschi, così io sarò, che avrei un po' per i miei mani di ricotta, e poi si prendono un metro di mano, ma che si amicinò a un soldato tedesco, adesso, si amicinò, è escosto ai morti, li guardò, li toccò, li guardò, toccò pure il bambiere, chiesa, forse li toccò pure le mani belle, tanto sta che a un certo punto il tedesco si girò, disse, sono tutti morti, il tedesco, non lo disse, non è americano, certo, sono tutti morti, dice tutti, pure questo quasi, soprattutto questo, che è mani belle, è sicuro che è morto, per dire, cioè il bambiere pensava, c'è il cascato dell'americano, non c'è il cascato pure del tedesco, ma noi italiani siamo proprio attuolinati, guarda, ma pure attuolimorti, effettivamente, il vecchio, gli disse, è per me, non c'è mai che non c'è beve, ma il bambiere è una buona notizia, c'è la parola, c'è per lì che è finita la guerra, no, gli disse il bambiere, ma per appunto questo, vi volevo dire, che la guerra non è finita, e anzi, noi non sappiamo mai cosa stanno alleando i tedeschi, i americani, se sono alleando i loro, tra loro, ma si sparano uguali, contro due e due, tutti contro tutti no, gli dice, e poi vi devo pure dire, io mozzo a quello delle forti, ne è preciso voi, ma, vi vorrei dire, che posso pure per incominciare in mezzo, arrivare a fare il freddo, bene, mi portarono a lavorare, in Pernonia, ai prati dell'Apio Claudio, a fare il guardiare dei maiali, lavoro di responsabilità, e sensibilità umana, mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo, dice il vecchio, mi ricordo, era tanto tempo fa, mi ricordo, mi ricordo che a quel tempo lì, avevano appena ammazzato il re, il re d'Italia, mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo che è il fice del funerario, mi ricordo pure che andavamo, per vedere il re nuovo, Vittorio Emanuele, andavamo lì, da lontano, per la piccola piccola, il re, da vicino, per la piccola piccola, uno disse, a me è un ragazzino, pescerà, sono passati 40 anni, è ancora cresciuto, è un anno, infatti, lo chiamano Re Pippetto, il primo di una serie di nani, al governo l'Italia. Secondo me, era successa una brutta cosa, insomma, che gli avevano ammazzato il maial, insomma, che proprio tutto lo scrupolo, questo russo da sotto, e poi, quando gli vedi, mi sono andati via, io, dice il vecchio, mi sarebbe finato, mi sono messo a scavare, per tirarlo fuori, che proprio non c'havamo, manco più da fare il piccola, non tiravamo fuori con le mani, fino a che non tiravamo fuori, per davvero, questo russo, che però, era già morto, una pezza, e te credo, un tatero, un tatero, tutto addosso, questo russo, e poi, questo russo, io, dice il vecchio, io andavo a delle scarpe, mi sono messe e piene, belle le scarpe, belle, morbide, avevano fatte di sedere orientali, erandeschi, e poi, a stradu, solo sepprì, io, scarso, che a casa mia, dice il vecchio, a casa mia, i morti, mi seppriscono scarso, a casa mia, mai sapisco il morto, sepprì, dove le scarpe piene, a casa mia, si dice, che se è morto, gli lasci le scarpe, il morto, gli avevano i miei pesanti, gli avevano i miei pesanti, a casa mia, dicono, che se è morto, gli lasci le scarpe, poi rimane qua, tra di noi, percepisce la vita, pure la morte.